Siete su Partecipiamo Taranto, 100% partecipiamo al microfono net in regia Gisberto Nicoletti e Peppe Gandelli e adesso noi parleremo della prima pettolata europea, l'appuntamento giovedì, quindi questa sera, da fratelli Filetto si inaugura il Natale della tradizione, l'osteria moderna, darà il benvenuto sia per il pranzo che per la cena quindi dalla mezzanotte, tra giovedì 21 e venerdì 22, il complesso bandistico Lemma aglietterà con le pastorali tarantine mentre gli chef di fratelli Filetto prepareranno le amate pettole, quindi Santa Cecilia da fratelli Filetto e io entrerei in collegamento video se è possibile, non è possibile ancora, no, perché ecco, dobbiamo capire un attimo di entrare in collegamento quindi oggi noi, insomma, stiamo parlando di Santa Cecilia, si è capito e ovviamente era d'obbligo perché tra questa notte, domani mattina e domani tutto il giorno, si ovviamente faranno le pettole, si prepareranno le pettole come avete sentito dal professor Fornaro, ci saranno le pastorali, ci saranno tantissime cose di cui ovviamente i tarantini sono fieri e la cosa bella è che quando noi parliamo di Santa Cecilia, intanto patrona, protettrice dei musicisti e della musica parliamo anche di bontà, parliamo di tradizione, parliamo delle feste, del Natale che si avvia perché questo è il Natale più lungo in assoluto, quindi tante festività si iniziano magari a partire dall'8 dicembre quindi dal giorno dell'Immacolata, però Taranto è l'unica che parte proprio dalla vigilia, quindi dalla notte del 21 novembre e poi ovviamente il 22 Santa Cecilia, quindi c'è questa grande, vi parleremo ovviamente anche domani vi parleremo tantissimo di Santa Cecilia, vi parleremo di quanto sarà insomma bello fare tutte queste, partecipare a queste iniziative e sentire proprio quel profumo, intanto profumo inconfondibile e poi di assistere all'atmosfera che parte un'atmosfera natalizia, un'atmosfera di cui noi godremo perché insomma questo è giovedì 21 novembre vi ripeto dalla mezzanotte l'Osteria Moderna Fratelli Filetto darà il benvenuto ed ho in collegamento telefonico Mattia Calabrese, ciao Mattia benvenuto ciao, ciao, buongiorno allora io ho già annunciato che questa notte, dalla mezzanotte, questa sera dalla mezzanotte ci sarà la, voi l'avete chiamata la prima pettolata europea, ci spieghi perché, ci racconti cosa accadrà eh sì, beh ormai è consuetudine ogni anno, ormai da quattro anni che abbiamo aperto questa nostra nuova attività Fratelli Filetto in via Pitagora 18, ospitiamo qui la prima pettolata europea perché fondamentalmente il Natale di Taranto è il primo Natale europeo, diamo il via alle festività natalizie e verrà la banda, faremo le pettole quindi ormai è un appuntamento fisso per tutta la cittadinanza intera bello, quindi voi farete questo, accoglierete intanto, ci sarà la banda del maestro Lemma il complesso bandistico Lemma e poi i vostri chef prepareranno le pettole, così? sì, diciamo che da oggi il menù cambia un po' forma perché entriamo nel vivo delle festività natalizie il locale è stato allestito per, come sarà allestito per tutte le festività fino a gennaio e anche il nostro menù cambierà leggermente, diciamo così, la sua impronta perché andremo ad inserire anche le pettole, i nostri dolci tipici come si andrà a chiudere, le cartellate e tutti i piatti tradizionali che bontà, bellissimo, una bontà incredibile, allora noi ricordiamo che l'appuntamento è questa sera a partire dalla mezzanotte, quindi tra giovedì 21 e venerdì 22, il complesso bandistico Lemma sarà lì per suonare le pastorali tarantine, mentre gli chef di Fratelli Filetto saranno a preparare e prepareranno quindi le nostre amatissime pettole sì, diciamo che stasera siamo sold out, è tutto pieno, quindi i nostri clienti, i nostri amici più affezionati hanno già riservato il loro posto in prima fila per assaporare il primo menù natalizio e quindi poi dalla mezzanotte vi aspettiamo tutti per le pettole per tutti poi, dalla mezzanotte per tutti, tutti qua e anche chi sarà fuori, chi non ha prenotato può entrare, può stare lì davanti ci arriveranno tanti altri esatto, assolutamente, grazie Mattia Calabrese e a presto grazie a te, ciao, buona giornata e buon lavoro